Sono Antonio Loschiavo, candidato a sindaco nella città di Vibo Valenza e consigliere comunale. Proprio in questi giorni la maggioranza che governa il Comune di Vibo subisce un'ulteriore crisi, un'ulteriore divisione e si tenta di uscire dalla difficoltà di questa fase riproponendo nuovamente ai cittadini un ennesimo libro dei sogni. In realtà, degli aspetti programmatici proposti in campagna elettorale, nessun punto qualificante è finora stato realizzato. Le condizioni di vita dei cittadini non sono migliorate, non sono state affrontate le grandi questioni del lavoro, dei quartieri degradati, dello sviluppo urbanistico, dell'esistenza idrogeologico. Ecco, oggi questa città chiede alla politica uno scatto d'orgoglio, e cioè di poter dire finalmente se si è in grado di cambiare o di raggiungere alcuni obiettivi pochi che interessano realmente la vita delle persone, altrimenti è giusto ritornare al voto e dare la possibilità ai cittadini di riesprimere nuovamente la propria opinione e il proprio giudizio sul futuro di Vibo Valenza. Questa città sta subendo con ulteriori danni un clima di paralisi amministrativa. Abbiamo avuto un dissesto economico, rischiamo di averne un altro. È giunta l'ora che chi oggi guida l'amministrazione dica chiaramente sia la forza, l'autonomia e lo scatto di orgoglio per poter chiudere questa esperienza. Altrimenti è giusto che tutti noi possiamo ritornare al voto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS